L'Argentina per me è stato il più bel rally che abbiamo mai fatto sulla terra perché un rally praticamente con tre quattro prove speciali al giorno di 130 140 km le prove un rally a fiore così e dei paesaggi incredibili delle prove velocissime delle prove un misto incredibile mi ricordo che ho fatto una prova di 159 km Andalgala Belém di 159 km l'ho letto per un'ora e 38 minuti proprio con dei rettilinei lunghissimi con delle delle cose delle robe da limitatore di quinta che naturalmente poi mi dissero quando va a limitatore 6 a 206 km all'ora perché fatto il calcolo dei rapporti 6 a 6.200 giri entra il limitatore 6.200 giri con la quinta di con quei rapporti 6 a 205 206 km all'ora e abbiamo fatto tanti pezzi all'imitatore come ho detto una volta che sono convinto di questo che se vinci Monte Carlo vai sui giornali se vinci la Corsica vai nella leggenda perché per un rallyista per me è una cosa vincere la Corsica il massimo è una mille miglia è una una gara terribile veramente quattro quattro rally ho fatto quattro tour de corsa Manali was backed by Pinto in Stratos number four Pinto held a tenuous second in the Stratos but by evening Andre was out and the lead taken by yet another Fiat this time Bernard D'Arlish behind him a gaggle of Fiat behind him holding second Pinto Stratos Pinto Stratos came through the second overall after the news that the gallant Frenchman had finally succumbed to transmission failure when in sight of the leader it was a sad end to a remarkable effort by the diminutive Ford team it left Fiat as outright winners of this 21st Tour de Cors Quella volta lì mi ricordo che eravamo in testa e niente nella prova di Talasani la porta su un ponte di ferro mi ricordo che abbiamo preso una tac ho sentito tac mancavano due prove alla fine eravamo davanti a D'Arlish e niente abbiamo bucato e siamo arrivati a un punto dove non c'era l'assistenza d'emergenza doveva esserci non ha fatto in tempo arrivare per cui ho cambiato la gomma e io da solo gli ho detto non muoverti Lele ho cambiato la gomma ci ho messo forse meno di due minuti ho lasciato la tutto e siamo partiti lasciato la tutto cric gomma tutto non ha caricato niente sono riuscito solo a chiudere il cofano davanti da cui avevo tirato via l'ha tolto la gomma di scorta e niente poi se lì abbiamo perso la gara mancava due prove alla fine ho perso la gara e lì è stato veramente dura perché effettivamente vincere la Corsica per me era niente il massimo la Finlandia era una gara talmente atipica talmente particolare che se non eri di là e se non guidavi sempre e avevi la possibilità di provare e di guidare in Finlandia non potevi raggiungere il 100% insomma perché una volta in Finlandia c'erano dei piloti che nel contratto piloti affermatissimi eh come tanto per non fare nomi Munari e Roerl non sono mai andati in Finlandia perché loro all'inizio dicevano io in Finlandia non vado perché perché non avevano la possibilità di essere al pari dei finlandesi anche se eri Munari o Roerl capito perché io ho sempre considerato che loro guidano in tre dimensioni loro guidano destra sinistra e poi alto e basso cioè loro hanno questo questo tipo di di strade perché è il contesto è la strada che li ha formati così quando sono stato a fare la Finlandia che l'abbiamo provata poi non siamo potuti andare perché le si era fatto male a un dito non siamo potuti partire e mi ricordo che però l'abbiamo fatta tutta abbiamo provato tutta la Finlandia e erano 460 chilometri di prove speciali e mi ricordo che nelle note io li ho contati ho provato a contarli e mediamente c'erano 10 dossi al chilometro Dosso vuol dire strada che finisce per cui non sai cosa c'è di là per cui grosso modo 4.500 dossi l'anno era il 73, il 73 e il 74 per cui si immagini come si poteva affrontare praticamente questo tipo di contesto i tre equipaggi erano io con Lele, Allen con Kivimaki e Barbaggio con Sodano e naturalmente seguivamo tutti Allen e Kivimaki che facevano strada durante le prove allora proviamo di qua proviamo di là facciamo questo quello domani facciamo così 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 un giorno alla sera in albergo dissero domani non ci siamo ragazzi non ci siamo perché dobbiamo andare a Helsinki perché Marco ha un problema a Helsinki deve andare a Helsinki qui in zona ci sono tre o quattro prove mi raccomando e ragazzi date piano perché qua ci sono i poliziotti con le pistole radar e poi se se vi prendono che andate oltre il limite non si corre scoppia un problema per cui mi raccomando sempre a 50 all'ora e fate queste prove fate Urria fate quell'altra quell'altra ok va bene facciamo così allora alla mattina siamo usciti siamo andati in questa prova Urria a un certo punto arriviamo c'è un dosso che va su molto molto dolce e poi fa uno scalino di un paio di metri tre ma una roba veramente finiamo la prova e arriviamo alla fine c'è già la Sodano con Barbasio che dicono a Lele hai visto quel dosso e hai visto che roba e io gli ho detto sì è un dosso quello lì bisogna farlo piano cioè arrivi lì freni e vai giù perché hai visto cos'è è uno scalino eh ma però bisognerebbe provarlo ecco l'ho detto che comincia e Barbasio dice senti Lele naturalmente cercando di abboccarlo no perché non lo provi tu noi ci mettiamo lì sul dosso e ti facciamo un segno che non arrivi nessuno per cui cerca di provarlo a una velocità da gara allora poi va bene va bene ok e io cominciavo a mugugnare perché sapevo che era una cosa da non fare perché un dosso così si arriva lì e si copia e si va cioè non 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 e gli ho detto ma Lele ma tu sei sempre solito ma dai tanto siamo qua proviamo no a farlo poi arriviamo in gara sappiamo com'è va bene ok e torniamo indietro prima seconda terza e arriviamo e c'era questa questa salita molto dolce no e vediamo i due sul ai lati della strada che fanno segno terza ma un 80 all'ora e non 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 e io tra me dico beh insomma sta sta alle regole va tranquillo la macchina è andata in stallo e a un certo punto la strada giù era così le punte degli alberi dei pini la cosa veramente è arrivata giù di colpo ha fatto due colpi così allora sono scoppiate tre gomme 3 3 gomme le portiere sono aperte il cofano si è aperto il vetro è volato via e la macchina si è fatta a banana praticamente le portiere non si chiudevano più mancava tanto così alla chiusura delle portiere la macchina si era piegata così io vedevo le lucine e abbiamo visto i due che sono corsi lì e che erano bianchi come un lenzuolo perché hanno detto sono morti perché hanno visto la macchina che si stava capottando il sotto della macchina che il di dietro andava sempre più 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 in alto per cui figura che adesso cadono sul tetto il tetto sai di plastica da quando ero il bar tubi da idraulico non è che fosse una roba fu una cosa veramente incredibile abbiamo distrutto un'automobile proprio e poi abbiamo rischiato di farci veramente male perché non avevamo il casco d'accordo con le cinture però un colpo così era una roba i fari che rotolavano per terra perché dal colpo che hanno preso come degli occhi fuori dalle orbite una roba veramente incredibile le grandi corse come come l'africa per esempio quel safari safari non ce n'è di parole speciali c'è una tabella distanze e tempi che è impossibile da ottenere ho visto marco allen arrivare a nairobi sconvolto perché hanno cercato tutti poi di confortarlo perché lui gridava come un matto perché diceva io ho capito io ho visto morire lui è andato via in acqua perché erano quelli che aiutavano le 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 macchine coi matt car a passare dei torrenti in piena capito per cui c'erano dei negli che della gente che aiutava pagata naturalmente aiutava e lui e ne ha visto ne ha visto uno lui pensava di averlo visto e tu di ma no non è vero poi si è salvato invece invece probabilmente è andato e mi ricordo quella quella volta lì era lui era veramente sconvolto io non ho mai fatto il safari non ho mai non l'ho mai corso però l'ho preparato con consigliero e negli anni che io sono stato il responsabile delle assistenze di quattro anni ben vinto tre volte un secondo posto perché ero effettivamente strutturata in un modo che perché se se tu in quattro anni vinci tre volte e fai un secondo posto non è un caso cioè non è fortuna vuol dire che hai trovato il sistema hai trovato la chiave la chiave per scardinare il safari per giove perché non c'era mai riuscito nessuno prendiamo il periodo lancia fulvia allora lancia fulvia era una macchina che chiaramente aveva come avversarie delle macchine più performanti soprattutto sull'asfalto cioè l'alpine la porsche e naturalmente i piloti alpine erano anche lì c'era un 45 fenomeni perché si parla di andrew e di nicolà di darnish di terrier per cui erano dei mostri sacri chiaramente su delle macchine assolutamente performanti tanto è vero che io una volta feci una prova all'elba con nicolà la costarella all'elba e rimasi sbalordito quando ritornai con amilcare sulla fulvia gli dissi tu mi sembri un gruista per giove quello la muove solo i polsi e le caviglie tu qua fai degli sforzi incredibili per guidare sta macchina l'alpine la guidano col rilascio con l'acceleratore con rilascio danno dei colpi leggerissimi al volante e la macchina si muove cioè una cosa veramente la fulvia per esempio è stata una macchina che vederla guidata da uno come munari per esempio era era un era una cosa incredibile era un arte lui lui tramutava la guida della fulvia in arte c'era veramente una roba e ogni tanto io guardavo e lui mi diceva non guardare si accorgevano che io guardavo come facevano perché era era affascinante da vedere la porsche naturalmente la porsche era all'epoca una la macchina più potente soprattutto sull'asfalto sono stato a fianco anche a rurl a andrew e a nicolà ho fatto prove con valdegaard anche con la stratos mi ricordo abbiamo fatto il ceppo a sanremo e poi a quei livelli lì è difficile dire chi è mi hanno fatto tante volte la domanda ma chi è il più bravo è impossibile dirlo perché ognuno ha un qualcosina che magari l'altro non ha e lui ce l'ha però non ha quello che ha l'altro in un altro aspetto della guida del comportamento del col 131 che io chiamavo la saponetta perché è un grande un esempio di aerodinamica automobilistica quadrata non si può fare una macchina così cioè non è una macchina non era una macchina da corsa però chiaramente l'italiano riesce a fare anche queste cose trasforma praticamente una macchina da famiglia in una macchina che vince il mondiale rally cioè è quello da considerare no? la 131 una macchina che tu vedi eppure è la macchina con cui ho vinto di più più gare e anche il campionato europeo nell'81 con Budafieri studiata per i rally forse la 037 a macchina da corsa era cambiavi il cambio in otto minuti perché la stratos allora il cambio se rompevi il cambio andavi a casa perché il cambio era nel motore e ci volevo una giornata e mezza a cambiarlo è vero no mi ricordo eravamo in in belgio con zanussi e mi ricordo che c'era d'arniche con la m1 con un correo un'altra ma allora io parlai con pianta al telefono e gli dissi sai che c'è qui anche nana e lui mi ha detto fagliela provare fagliela provare subito dico mi dai senti ho parlato con giorgio vuole che la provi fantastico andiamo andiamo e hai sembra di fare un giro di fare un giro con il muletto e lui mi ha detto una macchina incredibile mi fa ha una cassa che è una cosa meglio della stratos mi ha detto infatti era una macchina più da corsa perché motore centrale cambio sbalzo c'era una macchina a corsa un formula formula sospensioni eccetera capito era una macchina anche con disposizione di pesi eccetera macchina eccezionale sarei un bugiardo se non dicessi l'astratos chiaramente perché è una macchina che già entra dentro era una roba sembrava di entrare in un aeroplano senza le ali ma era un aeroplano questo vetro convesso questo questa questa plancia piena di strumenti questo questo avvolto dentro strettissimo piccola triangolare con pilota e navigatore con le gambe verso il centro il gomito nel casco rovesciato perché se no non ci stavano i caschi sei cilindri emozionantissimo veramente e poi è stata una macchina contro natura la stratos e di solito si fa uno fa un progetto tecnico e poi la porta da un da un in un atelier che gli mettono su attorno al vestito no questo al contrario fiorio ha visto il disegno di bertone e si è innamorato di questa roba qua ma era vuota non c'era dentro niente le sensazioni che provavi su una su una fulvia su una stratos un 131 anche ad una velocità inferiore a quelle di adesso perché adesso praticamente hanno delle velocità in curva incredibili ma adesso hanno delle escursioni di sospensioni che sono un metro e mezzo non sentono quasi le asperità del terreno sono tutte tutte gestite elettronicamente per cui si può dire che che non sarebbe una bestemmia dire che vanno da sole però sono il pilota è molto aiutato cioè mio figlio mi ha detto beh è lui è lui perché io io mi sono fermato alla 037 per cui lui mi dice papà adesso soprattutto adesso queste super super vrc le plus plus non plus plus perché è latino ecco le plus sono sono delle macchine incredibili perché vanno in una maniera hanno una velocità in curva che è che è impensabile un tempo che era impensabile un tempo capito però chiaramente secondo me l'emozione che ti dava una 037 una stratos era era per il suo tempo per cui andavo più piano sì però le sensazioni la pericolosità la difficoltà di tenere in strada erano effettivamente del tempo proporzionate all'automobile quel periodo era veramente un periodo che oltre in macchina sì sì erano delle strategie erano delle 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 si cercava qualsiasi qualsiasi cosa qualsiasi spunto per 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 sopravvalzare l'avversario noi però siamo stati effettivamente almeno stava nascendo la scuola dei navigatori italiani e mi ricordo che io marietto io manucci parlo di manucci maestro in assoluto maestro di una meticolosità incredibile di una anche lui era stimolante a lavorare insieme perché si si trovavano sempre delle astuzie delle cose da poi da mettere in pratica chiaramente della stimolante correli ragionare insieme perché poi oltretutto abbiamo cominciato noi due abbiamo cominciato a la scuola delle assistenze cioè di come finalizzare le assistenze durante la gara di come farle di dove metterle di come fare i radar per le assistenze cioè di e di come fare naturalmente i root book per le assistenze con i disegni con le cose per far sì che naturalmente i furgoni arrivassero sempre nel punto giusto all'orario giusto e non era una cosa semplice e naturalmente la scuola di questo genere di questa specialità l'abbiamo la creata mario commesso per esempio un particolare il sanremo sestrier che c'era anche una una parte nelle colline torinesi nelle colline del torinese e lì mi ricordo che siccome c'erano delle prove che tornavano indietro che facevano delle delle strane e allora per evitare che gli altri facessero delle scorciatoie andammo al catasto a torino e trovammo i francesi per 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 avere tutte queste mappe che scutti fila o no mo ecco per dire no safari era una corsa incredibile la corsa e lì c'è stato la la bravura di tiziano cioè il lavoro insieme io e tiziano perché lui è stato uno molto onesto e molto e molto e mi ha sbalordito perché due anni prima dell'inizio dell 88 mi parla 89 90 91 all'inizio l'ha fatto con la la beta con la beta coupé e alla fine del del rally mi disse io l'anno prossimo no ma fra due anni se facciamo quello che ho in mente noi vinciamo al safari cosa che non era mai riuscito la lancia da anni e anni e allora mi disse io so come lavori io devo convincere i tecnici e responsabili della 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 lancia di fare le simulazioni noi non guardiamo la tabella distanza e tempi ma guardiamo solo le simulazioni e usiamo la tecnica aeronautica le sostituzioni tipo aeronautico cioè facciamo una simulazione vediamo cosa si rompe e quando si rompe e poi facciamo una strategia di assistenze in base a questi a questi dati per cui sospensioni dopo 400 chilometri le dobbiamo cambiare non ci interessa se paghiamo al controllo orario però dopo 400 chilometri le cambiamo allora dopo 400 chilometri in quel punto lì tu fai coinvergere più gente possibile più furgoni possibile perché la tecnica di munarie di fiorio soprattutto del drago il drago lì è stato sempre un po perché diceva le macchine si rompono tanto vale andare forte e poi quando si rompe e no ma tu non sai dove si rompe e bisogna trovare il modo che quando si rompe prima che si rompa devi ripararla cioè devi togliere la roba che pensi si rompa e che sai che si rompe dopo un certo periodo perché tu hai fatto delle prove hai fatto delle delle simulazioni hai fatto delle prove tecniche atte a scoprire i particolari che si rompono e quando si rompono e io naturalmente sotto la un mese un mese e mezzo giravo con un africans con un ragazzo africano con un bianco che è nato la chiaramente con un range rover e io mi preoccupavo solo di fare il radar per i furgoni uscendo dall'albergo tutta la giornata il furgone a fogone bene avevamo praticamente avevamo qualcosa come una ventina di furgoni sia di 4x4 perché bisognava anche calcolare in certi punti bisognava usare 4x4 bisognava usare dei furgoni con quattro ruote motrici per andare in certi posti ricordo che quando quando feci la corsica dopo che incontrai durante le prove carlos sainz che mi disse ma quanti 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 uomini avevate voi in africa perché io continuavo a vedere solo assistenza e lancia sono cambiati sono diventate praticamente una serie di gare di velocità con delle macchine che non si rompono mai per cui bisogna cercare di essere il più veloce possibile una volta invece dovevi essere oltre che essere veloce ma dovevi essere resistente fisicamente dovevi avere la strategia della gara dovevi essere c'era c'era una una serie di cose che dovevi curare che non erano principalmente la velocità della macchina ecco c'era tutto un pacchetto di cose che dovevi curare che facevano praticamente ti facevano vincere la gara mio figlio ha corso molto più di me ha fatto delle gare che io non ho mai fatto ed effettivamente lui ha fatto un'esperienza diversa dalla mia molto più completa diciamo però chiaramente lui lui ha cominciato andare sulle macchine che non si rompevano più è entrato nel periodo del detta del dettatore di note non era non non era più chiamato a risolvere dei problemi delle problematiche che invece io che per me erano praticamente il pane quotidiano insomma non c'è più il rally perché effettivamente perché vede secondo me per vivere intensamente ormai ormai sono vecchio per cui ma ma per vivere intensamente ci vuole la forza del contrasto se non hai la forza del contrasto non vivi intensamente almeno un tempo mi faceva questa domanda questa questa ero arrivato a questa conclusione per cui il fatto di fare le corse poi andare a casa avere il periodo di relax eccetera era proprio il contrasto giusto che ti permetteva di assaporare la vita in un modo completo ecco punto grazie siamo arrivati su in poi andate in stallo così è fatto la strada era piccolissima e io vedevo le punte dei pini degli alberi immagina perché la macchina ha preso velocità in questa rincorsa dolce che poi dopo finiva in uno scalino che pesci per cui è andata come lei ha pensato a 80 all'ora sta rispettando le regole benissimo e morco giudo no se fa se 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 tiene giù e facciamo vediamo 100 all'ora ci ammazziamo perché scappotano gli è riuscito proprio a stare in piedi tum tum due colpi come dicevo prima il reparto corse fiat colucci con giorgio ma guarda che il 31 il 31 è una macchina macchina io invece sono arrivato su quando la macchina era già perché ho corso con verini a pavia e la prima prova che abbiamo provato tutti con una macchina tutto il rally l'abbiamo provato con una macchina stradale una macchina normale io non ho mai salito sul 31 pronti via andiamo lì a pontenizza prima prova 100 ponte destra 150 all'albero tornante sinistra destra arriva all'albero vedo la non frena mai non frena più lo so io pam 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 e poi prende il tornante a una velocità incredibile capisci a cui non era abituato infatti poi dopo ho fatto camber enorme così esagerato che quando andavi dritto non riuscivi a tenerla quasi la macchina quando poi si piegava era come faceva le curve come su un binario aveva una tenuta era il guidato perché poi quando quando andava dritta non riuscivi a tenerla dritta la roba incredibile però aveva un ingresso in curva un inserimento che era una cosa incredibile sperimentale vediamo